quando disegno proprio la bocca quando non sappiamo come funziona una testa e siamo scomodi, che ci succede? qui abbiamo l'occhio e lo vediamo praticamente direttamente adesso io la piglio un po' qui abbiamo un occhio che è di scorcio ovvero se questo tiriamo fuori la sfera dell'occhio queste sono le palpe le palpebre sono così io quindi lo vedo in questa maniera io l'occhio lo vedo in questa maniera questo questo qui che è di scorcio intanto lo vedo in prospettiva quindi deve essere leggermente più piccolo anche proprio la sfera e poi non lo posso vedere nella stessa maniera perché? perché l'occhio come la bocca semplifichiamo è come se ce l'avessi su un cilindro e ce l'ho di scorcio allora che succede? che io ho qui un occhio ce l'ho qui e ho le palpebre ci stiamo? quest'altro occhio ce l'ho qui a parte che se mi è nascosto ma poi è girato vedete? va in questa direzione mentre qui ce l'ho diretto davanti questo ce l'ho di scorcio è girato e infatti ne vedo un pezzetto lo vedo in questa maniera ovvero ingrandendo vedo un pezzo di sclera e vedo e la vedo in questo modo e qui davanti ci vedo il naso e qui ci vedo l'arcata sopraccigliare questa è la clabella e qui ci vedo l'altra arcata sopraccigliare vedete come quadra? però noi quando disegniamo se non abbiamo chiara questa cosa qui tendiamo quest'occhio a girarlo e a allargare questa parte quindi lo disegniamo mezza faccia diciamo la disegno la disegno in questa maniera ok? l'altra mezza faccia non la non seguo questo andamento ma allora drizzo e metto l'altro occhio così per fare quest'operazione allargo cioè vedete quanto dovrebbe essere larga la faccia? la allargo per farci entrare l'occhio e questo è uno dei classici errori che si fanno quando si disegna dal vero che succede? è che mi trovo la faccia tutta sproporzionata perché questa parte me la trovo troppo larga rispetto a quest'altra che ha la sua dimensione no? vedete? cioè facciamo finta l'asse dell'occhio e l'asse di quest'occhio lo vedete o no? che qui è di meno qui è un po' di più e comunque questo qui è sicuramente maggiore di questo e questa parte non ne parliamo qui c'è il coso qui c'è il naso la bocca stando sempre su questo sempre nella stessa avendo sempre lo stesso tipo di problema perché è una scodella non solo è una scodella ma è una scodella di scorcio prendete un piatto fondo mettetevelo davanti e poi giratelo di scorcio e cioè il piatto fondo se lo mettete davanti lo vedete così giusto? due cerchi concentrici tanto io non sono giotto quindi posso fare i cerchi pure in questa maniera però se è di scorcio intanto questo qui questo grande lo vedo come un ovale e non è più un cerchio e il cerchio che gli sta dentro deve seguire l'andamento del piatto perché questo non è un ovale qui c'è discesa e poi qui c'è un e poi qui c'è un altro cerchio ancora allora vediamo un po' qui intanto va in questa maniera c'è questo cerchio qui va giù questo cerchio gira in questo modo e poi quest'altro cerchio qui all'interno guardate vi faccio questa linea che è una linea dritta qui qui va ancora di più all'interno e c'è un altro quindi lo vedo tutto deformato ci siamo? e questo solo perché dalla faccia così dritta io l'ho girata ci siamo?